Quindi un applauso a Luca Schirru, a Davide Magia che con le percussioni in qualche modo accompagnerà i ritmi, Roberto Fadda lo abbiamo già salutato, ma c'è una delle voci più belle di Sardegna, col canto tradizionale ma che ogni tanto viaggia anche in altri percorsi per poi tornare dentro quella dimensione di cui lui sicuramente è uno dei più alti rappresentanti. Allora un applauso a Emanuele Bazzoni, a ballare! Emanuele Bazzoni 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 Emanuele Bazzoni